ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video siamo diretti a vipi teno per assistere alla partita di hockey della valpe la finale eccoci arrivati ad ortisei ora faremo un breve giro in centro prima di fare pranzo eccoci nel caratteristico centro di ortisei ora andiamo al ristorante per pranzo e per finire strudel ora partiamo per andare a vipi teno eccoci arrivati a vipi teno siamo finalmente all'hotel eccoci in camera ecco la vista della nostra stanza in fondo si può vedere lo stadio dove andremo ad assistere la partita ora siamo diretti in centro vipi teno ora andiamo al pala ghiaccio per assistere alla partita siamo arrivati allo stadio la partita inizia la partita è vipi teno contro valpe si la partita è vipi teno contro la partita è la partita senza ora siamo al ristorante ecco gli spazi tipici trentini ora abbiamo finito la cena al ristorante andremo in camera il video finisce qui ci vedremo domani mattina siamo svegliati, ora andiamo a fare fare le elezioni strudel e il cappuccino ora lasciamo l'hotel per andare a Innsbruck per raggiungere Innsbruck da Pipiteno ci vuole circa un'ora di auto eccoci arrivati ad Innsbruck Innsbruck sorge ai piedi delle Alpi ed è la capitale del Tirolo ora saliamo sulla torre Civica che è una torre che permette di vedere tutta la città dall'alto siamo finalmente saliti in cima alla torre siamo scesi dalla torre Civica ora continuiamo il giro per il centro di Innsbruck ora lasciamo Innsbruck e torneremo verso casa il video finisce qui se ti è piaciuto lascia un mi piace ed iscriviti al canale grazie 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 grazie